Il metodo delle primarie segna il ritorno della gente a essere protagonisti indiscussi dello scenario politico. Questa è la linea comune del PDL Aquilano, oggi annunciata alla città in una affollata conferenza stampa organizzata nei locali del comune. Chi fa il mio nome spiega subito l'assessore regionale alla protezione civile Gianfranco Giuliente da seguito a un equivoco. Il PDL Aquilano da oggi inizia un'operazione di selezione del candidato sindaco e lo fa attraverso lo strumento delle primarie, proprio come vuole il vertice nazionale del PDL. Una conferenza per fare il punto in vista delle prossime elezioni amministrative, un momento di confronto sulle prospettive da dare alla città, un primo banco di misura circa lo sviluppo futuro dell'Aquila. All'incontro con la stampa era presente anche il consigliere comunale del PDL ed ex sindaco Enzo Lombardi. Il PDL Aquilano si è determinato circa un percorso di selezione del candidato sindaco attraverso un metodo, che sono le primarie. Questo metodo è stato peraltro ribadito anche dal segretario nazionale del PDL l'ultima volta, il 24 dicembre, Alfano, che ha risottolineato la necessità delle primarie. E evidentemente, per quello che mi riguarda, un candidato sindaco che emergesse da un percorso come quello di individuazione attraverso la base, e quindi quelle che si definiscono le primarie, sarebbe il candidato che io mi impegno ad appoggiare. Qualora ci si trovasse di fronte ad una serie di impedimenti, qualora ci fossero indicazioni esterne che venissero a sovrapporsi da questa volontà espressa dal centrodestra Aquilano, in quel caso, e quindi soltanto laddove le primarie non avessero in qualche misura luogo, ci sarebbe una candidatura a sindaco. Questa mia. La conferenza è un'occasione ghiotta per sollecitare il vicepresidente vicario del Consiglio regionale Giorgio De Matteis a rompere gli indugi sulla sua eventuale candidatura e far capire in che modo intenda scendere in campo. Se Giorgio De Matteis sciogliesse la riserva, ha commentato, Giulianti sarebbe un bene per la città. Il candidato sindaco che emergerà dalle primarie potrà contare sul mio appoggio, ha precisato ancora Giulianti. Qualora però ci fossero disegni diversi provenienti dall'esterno, allora ci sarebbe una mia candidatura a sindaco. La stessa idea mi è stata espressa anche dal senatore Lombardi, ha detto. De Matteis può scegliere se in qualche misura si decidesse a sciogliere la riserva, sarebbe un bene per la città, se candidarsi autonomamente con l'MPA e con tutto il contesto civico che dice di avere a disposizione, o addirittura se entrare in gioco sulle primarie. Se decidesse di andare in gioco sulle primarie e riuscisse vincitore da questa competizione, non ci sarebbe nessun tipo di difficoltà a dire che il candidato prescelto è De Matteis.